Dimmi la verità, ti aspettavi il pareggio tra Milan ed Udinese anche se la partita non è ancora finita, mancano 3 minuti e mezzo? No, non me l'aspettavo ma soprattutto non mi aspettavo un Udinese così in forma Soprattutto nel secondo tempo però Esatto, non ha giocato per niente male, mi ha un po' rassicurato perché l'Udinese in tutta quest'anno non l'ho mai vista molto molto bene E invece stasera mi ha un po' rassicurato, potrebbe avere la giusta spinta per lottare alla salvezza Ciao E ben ritrovati Ecco, detto questo, da scommettitore mi ero del culo perché mi ero giocato l'uno del Milan Eh lo so vabbè ma chi non se l'è giocato? Da tifoso della Roma sicuramente è un risultato positivo per la mia squadra del cuore Sì ma tanto se non lo sfruttiamo Se poi fai figure di merda con chiunque è inutile che loro vengano fermati dall'Udinese Esatto Primo tempo a mio parere 90% Milan Non è ancora finita però eh Sì sì per carità L'Udinese ha fatto veramente ben poco Il Milan che ha provato ad attaccare tant'è che con Christophe Piontek Primo pallone toccato butta la palla in rete In realtà secondo perché ha tirato il portiere e l'ha presa e poi gliel'ha ributtata in rete di testa Sulla respinta Poi che cosa succede? Nel secondo, ah però non abbiamo detto gli infortuni Attenzione Le Donnarumma all'undicesimo minuto E di Paghetà E di Paghetà Attenzione ai Castilleco Quindi insomma al primo tempo Gattuso costretto a fare due cambi Che non erano assolutamente previsti Che condizionano un po' la gara perché comunque il Milan da già per sé veniva da due sconfitte consecutive Quindi non in grandissima forma Due minuti mancano Esatto Ci si mettono pure due infortuni nel giro dei 40 minuti Non è proprio la migliore delle situazioni E va bene Volevo aggiungere un'altra cosa perché poi il Milan che cosa fa? Con Piontek stava per raddoppiare Non gli riesce, riparte l'Udinese in contropiede Nazione veramente corale Una ripartenza rapidissima Kevin Lasagna si fa trovare pronto e butta dentro la palla dell'1-1 Un bel gol dell'Udinese Da quel momento l'Udinese che si schiaccia sempre più Che tenta di ripartire comunque in contropiede E Milan che prova ad assediare la porta dell'Udinese Qualche altra occasione è avvenuta Ma attualmente siamo ancora sul punteggio di 1-1 C'è da dire che il Milan andrebbe a 52 Me sembrate sì E l'Inter avrebbe l'occasione Visto che sta a 53 Di allungare a più 4 Così poco era il distacco? Eh sì Mi pare che era un punto Era solo un punto Guarda perché era 51-53 Scusa No siamo 52-53 È diventato un punto Non lo so No no me lo ricordo Me lo ricordo Perché l'ho guardata 25 volte la classifica Ma seguiamo 53-52 Con il pareggio però adesso del Milan Con un punto esatto Attenzione perché l'Udinese prova a ripartire Attenzione perché c'è l'errore Ha fatto una cazzata Deve l'esagerato È 2 contro 1 È 2 contro 1 dell'Udinese Vediamo se Attene! De pole, De pole, De pole, De pole Mamma mia ragazzi Milan Che rischia Dopo questa Io vi dico che Il pareggio ci sta tutto ragazzi Anche se ripeto Nel primo tempo A mio parere Ha giocato più il Milan Nel secondo però L'Udinese ogni volta che è ripartita Ha creato sicuramente Grattacapi Alla difesa Rosso-nera L'arbitro sta guardando qualcosa Ma c'è calcio d'angolo Quindi Udinese che può provare addirittura Mi vuole leggere la classifica dell'Udinese Perché comunque ragazzi Udinese che adesso Si sta tirando su Comunque C'ha 29 partite Come le altre E 29 punti Quindi starebbe a più 4 Dalla zona retrocessione Ah 29 Ah però deve recuperare quella con la Lazio Esatto Quindi Vabbè le altre però non hanno giocato Devono ancora giocare Una stasera la Juventus Domani sera tutte Ma al momento stanno tutti a 29 Per la situazione Salvezza prende un punto a San Siro Secondo me Non è assolutamente male Anzi Che cosa ne dici No 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 Penso proprio di sì Un punto d'oro secondo me Io che perdo la schedina La prima del venerdì Mi rode veramente il culo Ripeto Del venerdì Oggi che è? È martedì È martedì Magari era venerdì E finisce qui ragazzi Finita in questo momento ragazzi Non seguite più i miei consigli Non mi aspettavo Se non volete sbagliare subito Ho buttato soldi Anche io sinceramente Non me lo sarei mai aspettato Pensavo che potesse essere La partita proprio Del riscatto per il Milan Gol de Piontek l'ho indovinato Però è finita Quanto è finita Fateci sapere che cosa ne pensate Nei commenti Ci vediamo più tardi Con il post partita De Cagliari A più tardi Ciao ragazzi Ciao